A gonfie vele il turismo balneare nel Salento, complice il bel tempo, la stagione estiva 2015 ha fatto segnare nei lidi attrezzati un più 30% in termini di presenza e fatturato. Secondo Feder Balneari Salento si tratta dell'aumento più significativo degli ultimi 15 anni, con ricadute positive per l'economia di tutto il territorio. Sì, una stagione d'oro, devo dire, l'eldorado proprio del Salento e della Puglia, questo grazie a Madre Natura, è come se Madre Natura ci invogliasse ad allungare la stagione balneare, come se volesse entrare nelle menti di qualche istituzione tipo la soprintendenza per far comprendere che nel Salento, in Puglia, si può andare al mare tutto l'anno. Solo a Gallipoli, durante i mesi di luglio e agosto, i prelievi agli sportelli Bancomat hanno sfiorato i 60 milioni di euro. I dati sono stati illustrati durante l'Assemblea Generale di Laica, la Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, presieduta da Roberto Fatano. La modifica del bando e i 50 milioni di euro disponibili per l'ammodernamento dei stabilimenti balneari sono un importante risultato conseguito dalla Laica? Certamente sì, l'organizzazione comincia a partire di Laica, i tecnici, intercettati i bisogni degli associati, in particolare in questa fattispecie i balneari, si è subito mossa all'organizzazione per l'ottenimento di questo ottimo risultato, che ovviamente non sarà l'ultimo, ma il primo di una costruzione organica e più concreta a favore delle imprese.